buongiorno a tutti siamo al porto di pisa per l'innovation day di palumbo auto mercedes benz qui con me abbiamo olivio che ci illustrerà tutte le caratteristiche della nuova equa grazie silvia eccoci qua benvenuti ora vi faccio vedere un pochino le caratteristiche delle qua entrate insieme a me e dentro l'auto andiamo a vedere più dal vivo la nuova equa dopo il successo della sorella maggiore QC mercedes presenta sullo stesso pianale della GLA il nuovo sul compatto totalmente elettrico quindi abbiamo un pacco batteria da 66 kilowatt e una potenza di 190 cavalli l'autonomia totale dichiarata è di 420 chilometri per il ciclo VLT e i tempi di ricarica a seconda della fonte alla quale ci attacchiamo vanno dalle sei ore a scendere fino a un'ora e un quarto un'ora e mezza vivio volevo chiederti quanti chilometri può percorrere qua con un piano la nuova equa con un piano di batteria può percorrere fino a 420 chilometri del ciclo VLT quanto tempo serve per ricaricare la macchina diciamo che con una wall box quindi parliamo di 11 kilowattora essendo il pacco batteria da 66 kilowatt in 6 ore la macchina è in carica i tempi si abbassano con la corrente continua e la ricarica ultradapida bene vi ringraziamo per aver seguito questa descrizione delle qua vi aspettiamo nel nostro concessionario paluco auto un saluto da me e da Lidio alla prossima ciao